A trovare in camera da letto i corpi della cinquantenne Teresa Cotugno e del 48enne ex guardia giurata Franco Sorbo è stata la figlia ventenne della coppia. La ragazza era incasata tardi ma non è riuscita a entrare perché l'ingresso ero chiuso dall'interno, così ha chiamato i vigili del fuoco che hanno aperto la porta, quindi si è precipitata nella camera da letto dove ha fatto la macabra scoperta. È un ambiente familiare fatto di contrasti caratteriali che erano diventati ostacoli quasi insormontabili, quello nel quale è maturato secondo una prima ipotesi investigativa l'omicidio-suicidio di due coniugi avvenuto nella notte in un'abitazione di Santa Maria Capovetere in provincia di Caserta. Litigi frequenti e altrettanto frequenti riappacificazioni l'ultima venerdì quando lui le aveva portato un mazzo di fiori. Poi la notte scorsa la tragedia, la coppia aveva anche un altro figlio di qualche anno più piccolo che fuori perché militare. Qualcuno ha raccontato del carattere ossessivo dell'uomo con la donna che qualche volta aveva detto di volerlo lasciare. Se mi lasci mi sparo, le avrebbe detto poi, però i due facevano pace. È successo anche qualche giorno fa, ma la situazione deve essere poi precipitata la notte scorsa, quando Sorbo, ex guardia giurata che di recente faceva l'operaio, dopo aver colpito la moglie alla testa, ha rivolto l'arma verso di sé facendo fuoco e uccidendosi. Una ricostruzione che comunque ora il vaglio della procura di Santa Maria Capovetere con il PM Alessandro Di Vico.